L'informazione di valore sul canale 18, questa è Esperia TV. I commissari Cotticelli e Crocco, queste le richieste dei sindacati nell'incontro con il ministro Roberto Speranza. Ancora un altro sbarco nel crotonese, quasi 100 emigranti soccorsi a largo di isola Capo Rizzuto, almeno 30 tra donne e bambini, ora sono tutti al Sant'Anna. Mercoledì 9 di settembre, ben trovati sul 18 per l'appuntamento con l'informazione regionale di Esperia TV. Una bimba è risultata positiva al coronavirus nella frazione Mirto di Crosia ed il sindaco ha disposto la chiusura dell'asilo che frequenta la piccola. La bimba è familiare stretta del caso individuato nei giorni scorsi e collegato da un focolaio registrato a Corigliano Rossano. Il sindaco Antonio Russo ha emesso un'ordinanza con la quale ha disposto la chiusura dell'asilo frequentato dalla bambina. Inoltre la famiglia è in quarantena fiduciaria in attesa di nuove disposizioni. Restiamo in tema perché sono più 19 i casi di Covid-19 registrati quest'oggi in Calabria come da bollettino della Regione. Leggiamo insieme i dati, casi totali 1.167, ricoverati 27, rianimazione 2 persone, guariti 1.143, deceduti 97, in isolamento si trovano 212 persone, tamponi eseguiti sino ad oggi 9 di settembre 2020, sono 167.110. La pagina politica come è noto il 20 e il 21 di settembre, in 75 comuni calabresi gli elettori andranno al voto per eleggere i sindaci e i consiglieri comunali a Reggio Calabria a sostegno di Giuseppe Falcomatà. È arrivato il numero 1 del PD, Zingaretti. Se faccio l'elenco delle promesse della Lega quando va nelle città, scriviamo un libro tra il fantasy e l'horror. Io dico ai cittadini di Reggio, difendete la vostra città da un'aggressione che con Reggio Calabria non c'entra nulla. Così il segretario nazionale del Partito Democratico, Nicola Zingaretti, partecipando ad una manifestazione del candidato sindaco del PD, di il sindaco uscente Giuseppe Falcomatà. Quando si fa politica è giusto testimoniare i valori, ma quando ci sono le elezioni bisogna farli vincere quei valori. E quindi noi corriamo per vincere e faccio un appello a tutta la base, ai cittadini, alle cittadine, alle donne, agli uomini, ai giovani che non vogliono che torni Salvini, che non vogliono che torni Lameloni, di unirsi intorno a queste candidature che qui a Reggio Calabria sono rappresentate da Falcomatà. Io sono il segretario del PD, ha detto Zingaretti, ma Falcomatà non ha avuto peli sulla lingua nel protestare quando ha visto che c'era una disattenzione del governo rispetto alla sua città. Falcomatà che l'ha salvata grazie al fatto che ha battuto i pugni sul tavolo. Io sono il segretario del Partito Democratico, ma Falcomatà non ha avuto peli sulla lingua nel protestare quando ha visto che c'era una disattenzione del governo sulla sua città e ha vinto, ha vinto contro tutti. Che cosa significa per questa città? Che siete salvi, che sono salvi i ragazzi, le ragazze, le donne, gli uomini di Reggio Calabria. Grazie a Falcomatà sono persone più libere e con meno zaini sulle spalle. E lui l'ha ottenuto perché era un debito ingiusto. Molti governi negli anni non avevano avuto il coraggio di affrontarlo. Lo dico io che ho seguito un po' la vicenda. Se non ci fosse stato Falcomatà probabilmente neanche questo governo se ne sarebbe accorto. E solo perché ha battuto i pugni sul tavolo l'Italia, il governo italiano ha guardato a Reggio Calabria e ha fatto giustizia di una ingiustizia. Sanità, il ministro Roberto Speranza ha incontrato i sindacati regionali. Vediamo. Modificare il decreto Calabria, assumere personale sanitario, sostituire con effetto immediato il commissario e il subcommissario per l'inadeguatezza dell'azione rispetto al ruolo e al compito loro affidati. Sono le principali richieste avanzate a Roma dalle segreterie regionali di CGL, Cisle e Guil, al ministro della salute Roberto Speranza, che hanno ringraziato per la sensibilità politica ed etica manifestata con la tempestiva convocazione del tavolo. Urgono interventi mirati e risolutivi in relazione al malaffare che continua ad imperare nel servizio sanitario regionale della Calabria, hanno aggiunto CGL, Cisle e Guil, ed è anche necessario adeguare la struttura commissariale e il dipartimento salute con nuovo personale. Entrambe le strutture sono infatti sprovviste di personale sia dirigente che impiegatizio. Il ministro Speranza ha manifestato totale apertura e disponibilità verso le richieste proposte da CGL, Cisle e Guil, sottolineando che a fine ottobre scadrà il decreto Calabria e in quella fase il ministero procederà ad una nuova valutazione complessiva della situazione in dialogo con la regione Calabria per operare le scelte necessarie. Una valutazione che riguarderà anche l'ufficio del commissario, in relazione al quale i sindacalisti hanno evidenziato l'assurdità del fatto che i sindacati riescono a confrontarsi con il ministro, mentre non riescono ad avere un incontro con il commissario, che è un delegato del ministro stesso. Il risultato di dieci anni di commissariamento, in cui si registrano sprechi e non si riescono a garantire i LEA, è un inasprimento della tassazione per i cittadini, e un drammatico allungamento delle liste d'attesa e dell'immigrazione sanitaria. A proposito di carenza del personale, Speranza ha constatato come le assunzioni in Calabria siano state meno della metà rispetto alla media del resto del Paese. Pur avendo mantenuto i precedenti impegni assunti, circa lo scorrimento delle graduatorie e le stabilizzazioni, la situazione attuale non è tale da coprire il fabbisogno di personale. L'incontro si è concluso con l'impegno da parte del ministro ad affrontare il nuovo percorso, coinvolgendo già nelle prossime settimane le organizzazioni dei lavoratori nel dialogo con la Regione sulla riorganizzazione di un settore di importanza fondamentale per la vita delle persone, per le famiglie e per le comunità. Restiamo in tema perché sulla vicenda del Marelli ospite al che è esaurito il budget per la radioterapia, il parlamentare calabrese Francesco Sapia ha chiesto al viceministro Pierpaolo Sileri di promuovere un tavolo urgente per trovare in qualche modo una soluzione. Saverio Cotticelli e Maria Crocco continuano a svolgere il proprio mandato governativo senza aperto confronto con le istituzioni elettive e con i commissari straordinari delle aziende del servizio sanitario calabrese. La sanità della Calabria sprofonda sempre di più in un baratro gestionale che non conosce precedenti, incomprensibile e inaccettabile alla luce del fatto che commissariata dal 2010 e ciò nonostante presenta un forte aumento del disavanzo, un peggioramento progressivo dei servizi e il grave problema dell'emigrazione per le cure che costa le casse regionali, 300 milioni circa all'anno. Così il deputato Francesco Sapia del Movimento 5 Stelle che ha scritto al viceministro della salute Pierpaolo Sileri all'indomani del tavolo tra il ministro Roberto Speranza e le segreterie regionali di Cigele Cisle Will. Il parlamentare, nella missiva a Sileri, ha sollevato la problematica della radioterapia di Crotone che ha sospeso i trattamenti ai pazienti oncologici a causa dell'insufficienza del budget, esaurito in otto mesi di attività e che attende risposte dall'ufficio del commissario. Per il deputato è urgente promuovere uno specifico tavolo. Cotticelli, infatti, sollecitato dallo stesso Sapia, ha risposto di non doversi considerare i bisogni dei suddetti pazienti quasi come se non vi fossero. In più, per il commissario alla Sanità, le prestazioni di radioterapia del Marrelli Hospital andavano programmate in dodicesimi, malgrado i chiarimenti di diritto forniti dal Tribunale amministrativo regionale della Calabria. Sulla questione, Sapia ha chiesto a Sileri di intervenire da viceministro in modo che in tempi brevi si possano trovare, attraverso il rapido coinvolgimento di tutte le parti interessate, soluzioni adeguate per i pazienti oncologici nel loro esclusivo interesse. Occorre richiamare la struttura commissariale ad avere da subito un atteggiamento di maggiore ascolto e apertura alla concertazione nello svolgimento del delicato compito di allocazione delle risorse e più in generale di gestione del piano di rientro dal disavanzo sanitario della Calabria. Intanto il Tribunale per i diritti del malato di Crotone in relazione proprio alla comunicazione del Marrelli Hospital di aver esaurito il budget per l'utilizzo della radioterapia e quindi di non poter più evadere le richieste dei malati in cura e di nuovi si unisce all'appello dei pazienti che vorrebbero continuare ad usufruire del servizio nella propria città senza doversi recare fuori provincia con gravi disagi e lunghe attese. Il bisogno di salute, dice il Tribunale dei diritti del malato e soprattutto di quelli oncologici, deve essere tutelato e quindi garantito con ogni mezzo il TDM. Pertanto chiede ai responsabili della sanità regionale di attivarsi concretamente e di erogare le somme necessarie per consentire ai nostri malati di continuare a curarsi a Crotone. Cambiamo argomento, voltiamo pagina. Sono 97 i migranti soccorsi a largo di isola Capo Rizzuto da unità navali della Capitana di Porto e della Guardia di Finanza. Si trovavano a bordo di una barca a vela partita probabilmente alle coste della Turchia a causa del mare Forza 5 le operazioni di soccorso sono state complesse. Si è deciso di scortare la barca con a bordo i migranti nel più vicino porto di Le Castella anziché a Crotone. Tra i migranti sbarcati ci sono 30 donne. La Prefettura Pitagorica ha predisposto l'organizzazione dello sbarco con la presenza delle Forze dell'Ordine, di Medici del 118 e ovviamente della Croce Rossa Italiana. Ed ora ci occupiamo di un appuntamento importante, la 24esima edizione di Moda Movie. Andiamo a Cosenza. In questo bellissimo chiosso della nostra città, città di Cosenza, oramai sono più anni che facciamo tante belle cose per Moda Movie. Quest'anno, proprio il 21 di settembre, inizieremo con lo showcase, fare qui iniziando la mattina con l'apertura e poi alle 11 e mezza la conferenza stampa e poi andremo a degustare qualcosa con il primo dei nostri ristoratori, cioè la famiglia Barbieri. Fatto questo, il pomeriggio si prepara per le sfilate, quindi dalla parte opposta al chiostro faremo le sfilate, presenteremo questa collezione con gli abiti di San Leuge, i tessuti di San Leuge. Gli abiti sono stati realizzati da questi bravissimi tre stilisti che hanno fatto Moda Movie qualche anno fa e che quest'anno presenteranno queste tre collezioni, un po' per i bambini, un po' per gli adulti, sono tante cosette che adesso non sto a spiegarvi nel dettaglio. Quindi una location che mi piace da morire e quindi sono molto felice per questa. Poi andremo in altre location, come per il cinema di San Nicola, la serata conclusiva al Teatro Rentano, lo showcase è questa invenzione che ci siamo fatti noi, non solo noi, ma tanti altri, noi 16 anni fa, credo oramai sono, di cibo e moda. E noi quest'anno, quindi il 21 saremo qui con queste eccellenze del sud, io dico il sud, anche se sono il 99% di Calabria, però il sud, questa cosa straordinaria, quindi saranno esposti qui che si possono osservare a distanza ravvicinata, si possono vedere, si possono contattare, eccetera, eccetera. Quindi questo è il 21. Per come dicevo prima, poi facciamo San Nicola, il cinema, facciamo al Teatro Rentano la conclusione, appunto con i fashion designer, gli ospiti, le premiazioni, tutta la serata conclusiva a Rentano, e poi una cosa molto bella, è un altro posto molto affascinante, è il Biblioteca Nazionale, che è un altro posto fantastico che abbiamo, così ne abbiamo tanti, non solo questi, e lì faremo il workshop, questi due giorni di workshop che sono il 26 e il 27, e quindi niente, ci auguriamo, ringraziamo il Padre Eterno che ci faccia andare tutto per la via migliore, che giungiamo, che terminiamo questa 24esima edizione, perché siamo già pronti, avviata già la 25esima edizione, l'anno prossimo faremo le nozze d'argento, quindi siamo lì pronti per preparare il tutto. È tutto, l'informazione di Esperia tornerà domani alle 13.45, arrivederci.